Mi chiamo Piazza Alfonso e abito a Cadenazzo in Svizzera. Ho iniziato due o tre anni fa avere dei problemi ai denti inferiori che si iniziavano a rompersi perché avevo la parodontite e dopo un po' di tempo ho deciso di controllare la bocca e sono venuto qua in Montavia. Sono andato prima in Italia a Como, ho fatto fare un preventivo del lavoro che secondo loro dovevano fare. Il trattamento erano, cioè in poche parole loro mi facevano quattro impianti e quattro sopra e quattro sotto però non era il massimo, cioè non era tutto zinconio come quel che ho fatto adesso qua. Qui ho scelto il superior perché volevo mettere la cosa, la migliore che c'era per quello. Prima avevo la bocca rovinata, mi dava fastidio anche guardarmi, adesso no, mi sto anche bene. Un'altra persona, cioè se io guardo la foto che avevo prima e guardo adesso sono due cose diverse, sto meglio. Primo secondo me è una cosa che ti devi guardare te allo specchio e sentirti bene te, è la prima cosa, non tanto per gli altri. La prima cosa che devi è guardarti, guardarti te allo specchio e se ti senti bene te è già la cosa migliore che... Dopo anche davanti agli altri, cioè non hai problemi di aprire la bocca e sorridere, perché guardandomi allo specchio mi sembra di avere i miei denti originali. Lo so che ho una protesi, cioè nel senso è un impianto, però guardandomi così non mi sembra. Sono rimasto contento, all'inizio avevo dei dubbi perché sai, vai all'estero, non sai chi trovi, siccome ho sentito troppe voci in giro, all'estero che chi si è trovato male di qui di là, e allora sai, è un rischio che ho fatto, ma mi sono trovato bene. È una cosa che... Cioè per me va benissimo, anzi, sono professionali, non posso dire niente. Consiglieresti quello? Sì, quello sì. Infatti noi abbiamo mandato altre persone, sono andati in Romania per il discorso della guerra, soprattutto qui in Moldavia, e abbiamo consigliato altre persone che sono andati tramite noi in Romania a fare tutto il percorso. Il dottor Michele fino adesso, anzi, quando ho avuto bisogno così, ne ho avuto poche volte bisogno perché onestamente lui ha fatto le cose giuste che dovevo fare. È perfetto, non posso dire niente, anzi, sono contento. E io consiglierei a tutti di venire proprio qui direttamente e provare quello che ho fatto io. Cioè la professionalità è al massimo qua.